Si chiama Tutto ciò che vedo ed è il nuovo concerto di Luca Vagnini che si terrà sabato 28 giugno ad Isola del Piano con inizio alle 21. Il cantatore fanese torna alla ribalta dopo il brutto incidente di qualche settimana fa. Sarà Isola del Piano, in piazza Isola del Piano ed è in occasione della Notte Bio, per l'appunto che a Isola del Piano Montebello si fa tutti gli anni, hanno invitato me a suonare e a me fa molto piacere insomma questa cosa. Hai dato il nome al concerto che terrai, tutto ciò che vedo immagino proprio per l'ultimo album. Si, presenterò il mio disco, tutto ciò che vedo fuori dalla finestra e sarà ecco la data zero diciamo perché purtroppo tre date della tournese sono state annullate per forza maggiore e per usare la battuta di qualcuno domani mi rimetterò in moto però nel senso proprio del mio lavoro insomma ecco questo. L'appuntamento è il primo di una lunga serie che lo vedrà protagonista nell'estate fanese e non solo. Per fortuna ci sono altre date, a Fano ne abbiamo aggiunte alcune e se ne stanno aggiungendo altre ma dovrei ritornare a Firenze, Prato e Milano dove sono saltate, Bologna ad agosto insomma dai qualcosa si sta smuovendo e per chi volesse insomma se siete interessati su Facebook le trovate. Speriamo di divertirci quest'estate dato che è andata bene dovrà andare sempre meglio.